per un ragazzo tanto 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 atteso 55 gare ufficiali e finalmente il primo gol in maglia nera azzurra per Matteo Kovacic palla per Nagatomo che aveva intercettato bene e poi prova a far ripartire Osvaldo, buono il controllo, colpo di tacco elegante per Kovacic che salta due avversari solo contro portiere il pallonetto è gol! E che gol! E che gol! E che gol ragazzi! doppietta del professore! E che gol al Meazza! E che spettacolo al Meazza! Al minuto 33, doppietta del professore! Ma che gol ragazzi! Una bellissima azione, palla dentro, colpo di tacco di Osvaldo entra Kovacic che brucia tutti, entra in area e con un colpo sotto e che gol! Guardate, colpo di tacco di Osvaldo, l'accelerazione del professore salta a secco con un dribbling, Rauschenberg arriva a portiere un bel somblerino, un bel colpo sotto guardate l'hop e brucia a portiere, doppietta per Matteo Kovacic spettacolo al Meazza, che spettacolo al Meazza prova la percussione, attaccato da Bjorgvinson, cross al centro Osvaldo! E' gol! 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 Che stacco! E' che gol! Il cross in corsa di Nagatomo stacca per Entorio Daniel Osvaldo che mette in rete al primo minuto il gol del 3 a 0 Prisurra per Osvaldo, grande scelta di tempo grande stacco e questa volta non c'è la traversa a Negagli la gioia del gol ed è il gol del 3 a 0 festa grande sugli spalti, giustamente ha fatto un gran primo tempo, ci è andato vicino più volte, ha propiziato il gol del raddoppio ha colpito a portiere sinistra arriva veloce 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 cerca di andare al cross centro aria Osvaldo che chiama il pallone, finta e controfinta guadagna il fondo, rinviene piazza al destro E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! E' gol! Il tris! Il tris del professore! Tutti in piedi! Ma tutti in piedi per questa giocata di Kovacic che porta l'Inter sul 4 a 0 tripletta personale per lui festa grande, Kovacic, Kovacic, Kovacic urla tutto lo stadio giustamente per una prestazione maiuscola con la M maiuscola proprio da parte del professor Kovacic ed ecco il cambio esce Kovacic, stand innovation per lui tutti in piedi per salutare il professor Kovacic entra Mauro Icardi quindi non Osvaldo forse gli darà ancora un po' di minuti il mister tutti in piedi ad applaudirlo Matteo Kovacic Kovacic bello il filtrante per Icardi si gira molto bene e che gol! E' 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 che gol! Maurito! Che giocata! Controllo con alle spalle l'avversario quinto gol della gara per Mauro Icardi è il quarto gol stagionale il secondo in Europa League aveva segnato anche nella gara di andata Villà bellissima la palla dentro per Jonathan Jonathan per il movimento di Icardi e' gol! E' gol! E' gol! E' gol! Bellissimo! Doppietta di Maurito l'assess di Jonathan a minuto 34 ed è il gol del 6 a 0 doppietta di Mauro Icardi colpo sotto niente da fare per il portiere Johnson 6 a 0 bravissimo vedete qua nella protezione della palla su Wemmelund